Ragazzi, oddio, oddio, c'è la leggendaria, c'è la leggendaria del regalo, vediamo? Ah, oddio, 13.700 di oro, puro, carte obamiche comuni, la cosa sono i giorni, ancora non ci sono abituato, giorni rare, che vabbè, giorni epica, giorni leggendaria, guardo, questa è quella mia garba, bau, questi, lui, che mi interessa, lui, dovrei farlo, dovrei farlo usarlo, mega sgherro, oddio, dai, 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 ah, dai, lui, uso di più, potrei utilizzare i guardi, però la gelo, forse, Oh, godo, 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 lui, lui, principino, godo Grazie.